Allora, sono molto contento di poter fare questo video, ve lo dico subito. Se non avete ancora visto la serie, questo video avrà tanti spoiler perché andrò a riportare alcune frasi in particolare. Noi abbiamo visto la puntata della durata di un'ora e venti circa, in live su Twitch, perché ovviamente abbiamo la possibilità di condividere dei contenuti esclusivi che sono all'interno della piattaforma Prime Video, essendo ovviamente tutto di proprietà Amazon, è stato molto divertente, è stato molto emozionante e ci sono alcune frasi appunto che voglio riportarvi perché mi sono entrate dentro e alcuni momenti che voglio commentare insieme a voi. Vi dico subito una cosa, in questi giorni in tanti mi avete scritto che sono poco lucido nelle analisi. Io non so se sono poco lucido, cerco sempre di dire quello che vedo nella massima trasparenza e nel massimo rispetto anche delle opinioni altrui. Sono sicuro di essere poco carico, nel senso che questa situazione, io ve l'ho già spiegato, mi ha dato una bella botta tra capo e collo. Mi è servito, mi è servito tanto questo documentario perché sono stati sbloccati alcuni ricordi, ma soprattutto sono stati toccati alcuni tasti. E quindi nel frattempo che andremo avanti con alcune cose che sono state importanti per me, spero che possano sbloccare qualcosa anche a voi se ancora non siete riusciti a toccare quelle corde, quei tasti all'interno del documentario. E quindi la prima cosa che penso è a chiesa che dice post-infortunio, io riesco ad andare, non è ancora così grave l'infortunio. L'entrata di Smalling, chiesa che calcio per terra, arriva il dottore, chiesa gli dice proprio no no, io ce la posso fare ancora, io posso nuovamente giocare. Ero presente all'Olimpico di Roma in un freddissimo gennaio nella stagione di Sarri, quindi stagione 2019-2020, quando sia Demiral che Zagnolo uscirono per via di un problema al crociato. non so se è Roma-Juventus, non so se è l'Olimpico, non so perché, ma quello stadio ha portato via diverse ginocchia ai calciatori di Sarri A. E lo stesso Demiral, ricordo che fece la stessa cosa, chiese di rientrare in campo in quella partita in cui addirittura fece gol Demiral. Arrivò Emre Can, suo, tra virgolette, connazionale, perché Emre Can giocava nella Germania, ma sono entrambi di origine turca, e gli disse cosa stai facendo, mettiti a sedere, e quindi Demiral non ritornò in campo. Lo stesso principio, ok? Quella voglia, quei giocatori che sono dei lottatori dentro, nati, voglio ritornare in campo, non è così grave. Poi Chiesa si è dovuto arrendere, ovviamente, ha detto che appena ha messo giù il ginocchio e ha cercato di fare un cambio di direzione, il ginocchio l'ha mollato, non riusciva più a controllarlo. Io sento stock ad ogni passo. Questa frase è fortissima, perché il ginocchio ha appena fatto crack, ha ceduto. Lui vuole tornare in campo, ma sente che il ginocchio ha qualcosa che non va. E infatti si avvicina a Pellegrini, compagno di Nazionale, e gli dice, Lorenzo, mi sono spaccato tutto. Chiesa avverte dolore, è costretto ad uscire. C'è uno dei componenti dello staff atletico della Juventus che lo accompagna fuori e poi tornerà. Questa frase è perché il medico, lo specialista che ha aiutato Federico per tutto il percorso si è creato questa sorta di legame umano bellissimo tra i due. Ed è bello perché a un certo punto dice, Federico, non lo dico perché sei qui te, ma è una cosa che ricorderò per tutta la vita, aiutarti a fare quei 200-300 metri per uscire dal campo sotto la curva dei tifosi della Juventus. Ho sentito qualcosa, ho sentito un legame, e tra di loro si è creato un vero e proprio legame al di là delle capacità, al di là delle competenze, un rapporto umano che unirà sicuramente i due per tutta la vita. Chiesa dice, Ho iniziato a piangere e a disperarmi quando ho capito che era il ginocchio. Non serva le parole per descriverlo. È così e basta. È per un calciatore, un calciatore col suo talento, della sua età, in rampa di lancio, alla seconda stagione alla Juventus, dopo una prima di altissimo livello, dopo un europeo vinto da protagonista. Stop. Bisogna fermarsi. È necessario mettere in pausa la vita, la carriera, i sogni. Io non ho mai vissuto un infortunio di questo tipo. Mi ritengo abbastanza fortunato. Però ho visto mio papà soffrire, e tanto per queste cose. Il mio papà era molto forte a giocare a pallone, magari stavo guardando il video, quindi ciao papà. E una delle prime volte che sono andato allo stadio a vederlo, il ginocchio ha ceduto. Mi sono spaventato, e tanto, infatti da piccolo non avevo assolutamente voglia né di giocare a calcio, né di vedere il calcio. Poi ovviamente un bambino va a impressionarsi, no? Per queste cose. Adesso ho voglia di calciare il pallone tutte le volte che non ho la possibilità, e probabilmente mi sono perso gli anni, anzi, probabilmente mi sono perso gli anni migliori. Io ho iniziato a giocare a calcio intorno ai 14, 15, 16 anni, seriamente, a dare continuità, a fare gli allenamenti, e a provare a calciare il pallone. Chiesa lo dice, ho iniziato a giocare a 8, a 6, a 18 anni esordito in Serie A, e poi c'è un passaggio sul quale torneremo sopra, successivamente, perché Chiesa Juventus era una storia già scritta, destini incrociati. Mi sono emozionato, mi sono emozionato quando ho visto Chiesa fare i primi passi senza le stampelle. Mi ha dato veramente un'emozione incredibile. Ricordo quel video pubblicato sui social della Juventus, è sempre passato in eternità, quella sensazione di rivederlo ancora, finalmente, muoversi, dava speranza, dava gioia. E poi Chiesa iniziava un percorso in cui deve provare a forzare il ginocchio, e dice un'altra frase molto importante, perché è, ma pensavo tra me, ma chi me lo fa fare? Basta! Che cos'è questo male? Devi andare contro te stesso, contro il dolore, contro il cervello, contro la percezione. Fa male, ma ti serve. È un dolore che è necessario per tornare ai livelli di prima. È un dolore necessario per tornare ad inseguire il sogno che aveva da bambino. Chiesa a un certo punto dice su questa spiaggia quando ero bambino giocavo tutto il giorno insieme ai miei amici, quando non avevo ancora niente, quando non ero Federico Chiesa, quando ero solo un ragazzino con un sogno nel cassetto. quel sogno l'ha realizzato alla grande, ma ora c'è da resettare tutto. E per arrivare a resettare tutto bisogna passare dal dolore. Federico Chiesa sicuramente ha patito e non poco dolore. Un'altra cosa importante è quando Chiesa dice quando pensi non ce la faccio più, basta, invece è proprio lì che ne devi fare un'altra. Questa è una forza mentale alta da parte di Chiesa. Perché è proprio quel mood che ti permette di raggiungere traguardi ancora più elevati. Poi ovviamente ci vuole madre natura, ci vuole tanta fortuna, ci vuole anche tanta forza qui dentro, non solo nelle gambe, anche qui dentro. A un certo punto gli dicono Federico, il recupero da questo infortunio al 70% è mentale. 70%, il resto poi viene di conseguenza. A un certo punto gli muovono le gambe e gli dicono è il cervello prima di tutto che deve riabituarsi perché dentro di te hai delle conoscenze cognitive per questi movimenti che però non riesci a compiere al meglio, non riesci più a fare in maniera parallela da una parte all'altra perché ovviamente il cervello deve riparare e dice ho paura a appoggiare questa gamba, devo provare a salvarla utilizzando l'altra però poi vai a complicare il tutto. E qua si vede anche la cura dello staff tecnico medico della Juventus che ha seguito da vicino in prima persona il recupero di chiesa mi ha fatto ridere quando dice paura di ricominciare a correre ho perso la corsa ora a me non è successa la stessa cosa lo dicevo anche prima per fortuna infortuni del genere non li ho mai avuti però proprio in questi giorni un paio di mesi fa mi sono strappato in finale di YouTube Reg l'avete visto tutti sapete tutti l'ho raccontato una lesione comunque importante soprattutto in una zona così delicata vicino all'articolazione tra l'altro è una lesione è una lesione e non è simpatica sono stato per due mesi pensando al modo in cui mi sono fatto male cioè calciando il pallone impattando sul pallone e per due mesi ho pensato come farò a dare nuovamente un calcio al pallone con quale sicurezza con quale forza dove lo trovo il coraggio per calciare nuovamente il pallone non riesco nemmeno a camminare perché hai calciato il pallone sono cose che nella testa ce le hai ti vengono un ginocchio frantumato una lesione muscolare e la paura a fare quello che ti piace per fortuna anch'io ho ricominciato a correre l'altro giorno ho fatto i primi minuti in campo post infortunio ovviamente è stato un percorso differente più breve non ho dovuto raggiungere livelli atletici elevati come chiesa e sicuramente è stato anche un infortunio di minore entità però quella paura l'ho capita e l'ho condivisa perché ho provato la stessa emozione anche di recente quindi si è creato anche una sorta di legame tra me e Federico perché eravamo arrivati a condividere un pensiero voglio tornare a farlo però cavolo ho paura di farlo e sicuramente tutti quelli che sono passati tramite un infortunio e hanno dovuto aspettare mesi per tornare in campo hanno pensato un po' la stessa cosa e poi mi ha fatto ridere perché parlava del primo appuntamento con la sua nuova fidanzata che ha dovuto fare sul divano di casa perché lui non riusciva a muoversi e lei invece pensava potesse essere una scusa devo dire la verità ci ho pensato quando ho visto che si era messo con questa nuova ragazza e lo vedevo sul divano appunto con la gamba distesa e dicevo ma davvero come hanno fatto come l'hanno gestita sta cosa e mi è piaciuto che col seno di poi è venuta fuori questa risposta al dubbio che avevo e lo stesso Chiesa era molto impacciato imbarazzato per questa cosa ma si è vista anche la tranquillità veramente la tranquillità perché da questo documentario traspare un Chiesa come ragazzo normalissimo come tanti di noi come tutti noi poi ovviamente quando ti arriva a Forte dei Marmi con la Ferrari dici ok no è un calciatore c'hai soldi certo però il legame con la famiglia con la mamma con i fratelli non si è mai visto il papà questo è un punto interrogativo grosso che abbiamo pensato tutti però un ragazzo casa e allenamento proprio con la voglia di fare certe cose una la prima scossa perché qua c'è stato soltanto un po' ma c'è stata una scossa fortissima che ho avvertito dentro quando Chiesa dice questa frase lei non ha ancora capito riferendosi alla fidanzata le emozioni di quando scendo in campo e gioco a pallone pam uno schiaffo in faccia l'elettroshock perché perché come vi dicevo prima questa situazione mi sta dando mi sta complicando un po' anche probabilmente il fatto di mettermi qui e parlarvi di calcio perché io ho voglia di parlarvi di calcio vorrei parlarvi di calcio e in questo momento è molto complicato parlare di calcio c'è da parlare di tante cose in mezzo di traverso che vanno a complicare l'analisi e anche la tranquillità con cui ho sempre parlato di calcio davanti alla telecamera adesso è difficile ma Chiesa ha detto una frase bellissima ho usato una parola forte che è emozione e ci torneremo sopra dopo dice ho paura del cambio di direzione non della corsa in rettilineo e torna fuori il discorso delle paure di prima e quando ho fatto la prima corsa ha pensato lo posso fare di nuovo domani e qua si innesca ha già quel meccanismo che ti fa capire che il recupero procede può andare si può correre ancora di più è succissimo è successo vai ancora riproviamo quindi molto molto bene e poi dice alla mamma mamma oggi ho corso però lui stava già pensando ai cambi di direzione perché il suo gioco è quello lì fantastico e la mamma gli tira fuori un ricordo gli dice Federico tranquillo ce la puoi fare ti ricordi il tuo primo torello in serie A mi hai chiamato e mi hai detto la palla va troppo forte troppo veloce io qui i ritmi lì non ci posso arrivare sono belli questi aneddoti che si tirano fuori perché il calcio noi siamo abituati a vederlo 90 minuti bam questo è quante tante piccole cose ci sono dietro il calcio quante famiglie sono coinvolte quante mamme che magari devono aiutare i propri figli quanti papà che devono aiutare i propri figli quanti sacrifici fanno le famiglie quanti sacrifici ci fanno le fidanzate che devono mettersi lì anche di fronte a cose che non capiscono per assecondare quando Chiesa a Porta dei Marmi interroga la sua ragazza e gli dice che ruolo è Vlaovic cosa significa spalle alla porta fa ridere perché sono le cose che affrontiamo tutti noi nella quotidianità e ancora una volta si crea questo legame con Federico Chiesa che è molto forte per quanto mi riguarda in questo momento Chiellini Chiellini che viene intervistato e ricorda ricorda Chiesa il suo esordio in Serie A allo Juventus Stadium all'Allianz Stadium era la stagione 2016-2017 la stagione in cui cediamo Pogba acquistiamo Iguain la partita Juventus-Forentina finita 2-1 proprio con gol del Pipita subentrato dopo pochi secondi l'esordio con la maglia della Juventus è il gol decisivo di Iguain che va a piazzare il risultato sul 2-1 Chiesa va da Chiellini gli chiede di scambiarsi la maglia gli dà la sua maglia e Chiellini gli dice è la tua maglia dell'esordio in Serie A avremo la possibilità e la necessità di scambiarci le altre in futuro e pensare che sia legato il nome di Chiellini e quello di Chiesa no? perché l'immagine di Giorgio con la corona con la Coppa dell'Europeo la finale di Wembley lo stampino di Chiesa c'è stato alla grandissima non c'è stato un altro mondiale disputato dall'Italia con Chiellini e Chiesa insieme anzi non c'è stato il mondiale perché Chiellini e Chiesa al mondiale non hanno mai giocato insieme e Chiesa si era fatto male e Chiesa non poteva essere disponibile e l'Italia nemmeno si è qualificata e questa cosa tornerà fuori Chiesa è stato presente anche la Dio di Chiellini è la prima partita nella quale torna allo stadio posto infortunio quindi questo legame tra il capitano della Juventus è quello che oggi è il simbolo al quale il tifoso si aggrappa e forse anche il simbolo al quale i bambini si ispirano Federico Chiesa mentalità da Juventus era una cosa che pensavo già prima e questo documentario me lo conferma alla grande Chiesa prende la sua numero 7 per la prima volta e gli dicono questa è pesantissima e lui risponde no questo è un onore brividi sciolto perché aveva proprio gli occhi del bambino orgoglioso e felice di vedere quella roba lì tra l'altro sul numero poi si torna fuori perché la chiesa era stato proposto probabilmente il 10 perché forte nei marmi parlando con la sua ragazza torna fuori il numero 10 e lei dice perché non apprendite la 10 non eri quello con quelle caratteristiche e lui ha un attimo di esitazione dice no non è uno con le mie caratteristiche è il più tecnico della squadra è quello che si può inventare la giocata dal niente io concordo con le parole di Chiesa feci un video in cui disse praticamente la stessa cosa e disse Chiesa non è un 10 e non lo sarà mai perché per caratteristiche è un 7 o un 11 però impazzirei nel vedere Chiesa con la 10 e lui stesso disse in un'intervista la 10 vediamo lo saprete a breve mancava un mese alla rivelazione dei nuovi numeri di maglie quindi probabilmente c'è stato quel qualcosa poi si è spostato sul discorso Pogba non se n'è fatto niente però Chiesa con il 10 devo dire la verità mi avrebbe gasato e adesso ce n'è già un altro che ha parlato di 10 che è Fagioli gli hanno chiesto la 8 e lui ha detto ma la 8 non mi piace tanto come numero mi piace più il 10 sono quei giocatori che per forza di cose poi ti fanno innamorare no? per un motivo o per un altro su Fagioli poi torneremo magari in futuro poi c'è Chiesa che lavora sulla spiaggia quella spiaggia di cui parlavamo prima calcia di destro calcia di sinistro dice vaffanculo perché lo sbaglia perché probabilmente non se lo senta ancora suo perché probabilmente non è ancora recuperato al meglio e quel vaffanculo è proprio sincero onesto è quello che diciamo tutti quando sbagliamo un appoggio quando sbagliamo un tiro quando sbagliamo un passaggio vaffanculo a maggior ragione se quella gamba lì me la sono operata ci sto lavorando e non c'ho nemmeno la forza perché Chiesa poi denuncia questa cosa a Isbruck dal dottore che ha operato anche Killine de Miral dice doc non c'ho più muscolo mi manca il muscolo che è quello che ovviamente dopo un infortunio ti preoccupa sempre un po' di più e dicevamo prima nel mondiale parlavamo anche di questo di questo professionista che ha accompagnato Chiesa durante il recupero non so se un medico un fisioterapista non lo so gatta dovrebbe chiamarsi che gli dice in una giornata lo mando a casa perché vedevo che con la testa non c'era e che con la testa da un'altra parte si gonfiava anche il ginocchio era più difficile lavorare perché perché l'Italia era uscita dal mondiale c'era l'annuncio che non saremmo andati al mondiale per via dell'eliminazione e Chiesa l'ha subita questa cosa e la testa dicevamo prima 70% del lavoro è ricaduta sul ginocchio e ha fatto in modo di complicare il recupero ricordate quando si diceva ginocchio si gonfia si gonfia si vede che la testa di Chiesa non era proprio al 100% infatti è bellissima la scena di Chiesa che va dallo psicologo della Juventus e gli dice io voglio tornare in gruppo perché è quello che è quello che mi cambia allora lo psicologo lo mette a sedere gli chiede di chiudere gli occhi gli batte sulle ginocchia e gli dice dimmi che cosa stai vedendo c'è un montaggio clamoroso clamoroso di questa scena veramente clamoroso con Chiesa che dice mi sono immaginato da solo in mezzo al campo di notte con le luci spente e gli spalti vuoti e viene creata questa situazione che si era immaginato Chiesa bellissima con il sottofondo ancora una volta la telecronaca di Zambruno con l'infortunio con Smalling che entra le immagini che vengano messe a ripetizione di montaggio veramente clamorosamente bello quindi complimenti ad Amazon Prime Video e complimenti a Juventus per questo montaggio questa creazione di questo documentario molto bello ma quella scena è stata veramente molto bella è una cosa sulla quale torno a battere per ennesima volta il calcio lo sport la psicologia la testa perché sì l'allenamento sì il fisico sì le gambe ma la testa importantissima il fatto che Ventus abbia uno psicologo il fatto che il ginocchio si gonfiava per la testa questi livelli è qualcosa di incredibile perché se no non puoi nemmeno durare così tanti anni a tanti livelli io guardo Buffon e mi meraviglio non tanto perché ha quasi 50 anni è ancora lì che vola tra i pali ma perché ha la capacità di fare la vita da atleta per così tanti anni ripetutamente perché la testa a un certo punto molla per forza se non sono supereroi questi non sono uomini comuni non sono persone normali è una capacità difficile poi ovvio il discorso populista può essere sì ma giocano a calcio sono due cose differenti decisamente differenti poi che cosa c'è ecco torniamo ancora una volta su su quella che era la parola chiave che vi dicevo prima emozione perché lo psicologo dice a chiesa un chiesa che tra l'altro si vede è emozionato è toccato da questa cosa la frase del psicologo è bellissima che gli dice ciò che conta è la sensazione che ti ha dato e qua ho avuto il secondo elettroshock ce ne sarà anche un terzo ho proprio detto wow è un'emozione poi ci sono i dati sullo studio degli allenamenti eseguiti da chiesa con tutto lo staff con il dottore che vanno a controllare la gamba malata risponde così e la gamba sana risponde così e questi sono i dati e allora c'è l'affaticamento su flessori tra l'altro l'ha avuto anche l'altro giorno quando non era stato convocato col Monza ora abbiamo una situazione di Juventus quasi disastrosa a livello muscolare e tante volte ci hanno detto ma questi qua come lavorano i dottori i preparatori quello che è però dal documentario sembra esserci una certa cura un certo studio anche dei dati quindi che vengano fuori un'analisi di un certo tipo speriamo che si possa trovare il bandolo della matassa e risolvere definitivamente tutta questa situazione e poi Chiesa dice il rientro in squadra è stata una grossa emozione ero talmente preso dal gioco dal torello che non pensavo nemmeno più all'infortunio no? era successo che prima della partita di Champions Chiesa riuscisse ad arrivare all'interno del gruppo e a fare questo scambio insieme a tutti i compagni e ancora una volta l'emozione del rientro in squadra l'emozione dell'infortunio e poi arriva quella sera lì Juventus PSG Juventus PSG quella conferenza stampa alla vigilia in quell'egri dice no Chiesa assolutamente no e poi invece viene convocato a sorpresa e fa quello spezzone di gara io c'ero ero presente a Torino e l'ultima volta che sono andato allo stadio una Juve già eliminata dalla Champions cercava di qualificarsi in Europa League una partita secondo me anche ben giocata dalla Juventus nonostante la sconfitta a livello superiore il PSG c'è poco da fare la Juve di quest'anno è raccontato poco io l'ho vista tutte e due una a Parigi una a Torino state due sconfitte ma secondo me ci sono stati dei punti positivi in entrambe le gare non erano quelle probabilmente quelle da vincere in Champions ma è stata la nostra ultima partita in Champions di questa stagione e chissà per quanti altri anni in realtà perché ovviamente la situazione in questo momento non è delle migliori però ancora una volta la terza volta emozione perché quella sera ho provato un'emozione lo stadio ovviamente lo stadio è sempre un'emozione anche se ci sono dei problemi che abbiamo già affrontati tante volte ma soprattutto l'emozione di essere lì per Federico Chiesa l'emozione di vedere tutto quello che c'è dietro una partita di calcio l'emozione di vedere un ragazzo che sogna e ce la fa come ci arriva perché ci arriva quelle che sono stati anche i sacrifici dei familiari per farlo arrivare dove poi è arrivato effettivamente certo Federico è un figlio d'arte suo papà Enrico aveva fatto un ottimo percorso a calciatore e anche la casa di chiesa si vedeva essere di un certo tipo però vedere tutti i passi e anche il recupero il lavoro il dolore provato da certi giocatori e ovviamente l'affetto che si viene a formare nei confronti di un semplice tifoso e di un calciatore come chiesa mi è nato veramente un elettroshock uno scossone incredibile quindi torno al discorso iniziale qualcuno mi diceva sei poco lucido no sono scarico ero scarico spero che questa sia stata una bella botta di adrenalina perché mi sono commosso per tre volte all'interno del video tre volte mi sono commosso e tante altre volte pelle d'oca alla fine gli occhi lucidi mi sono venuti ma io sono fatto così io sono veramente molto emotivo e sono convinto che l'emozione sia il mio motore per andare avanti nel calcio e nelle cose di tutti i giorni questo per me lavoro oggi non solo passione per fortuna la mia passione è diventata anche il mio lavoro credo di avere così tante persone che sono interessate anche a sapere quello che dicono che dico proprio perché sono in grado di passare questa emozione sono in grado di trasmettere questa emozione difficilmente riesco a camuffare quello che ho dentro e quindi sono stato molto onesto con voi se dal principio questa situazione mi ha un po' scaricato devo dirvi anche la verità questo video mi ha commosso e ricaricato e quindi da qui alla fine della stagione avrò sicuramente un motivo per caricarmi quel motivo è Federico Chiesa perché se l'è meritato si è meritato di tornare in campo si è meritato di indossare con la maglia numero 7 si è meritato quel gol col Monza che mi ha fatto emozionare e anche lì commuovere si è meritato tutto e si merita tutto di tornare in un momento complicato con un evento spenalizzata con un evento sin difficoltà ma allo stesso tempo tornare con la possibilità di portare a casa uno o più trofei nonostante tutto nonostante l'anno e quindi sicuramente Federico Chiesa sarà uno dei tanti motivi che da qui alla fine dell'anno dovranno comunque darmi e darci perché ho letto che tanti di voi in questo momento sono comunque scarichi la forza di continuare a guardare sostenere ed emozionarci per la Juventus e per i rappresentanti che ci fanno innamorare anche della Juventus io penso al bambino l'ho già detto anche prima di oggi che vede Federico Chiese si emoziona perché è il numero 7 perché è il giocatore importante perché rappresenta anche la nazionale italiana perché è un giocatore forte perché è un giocatore grintoso perché è un giocatore mentalmente di livello alto non solo tecnicamente quindi mi serviva se non l'avete vista questa serie la consiglio assolutamente guardatela tanto chiunque abbia un abbonamento ad Amazon Prime può tranquillamente accedere a Prime Video mi dispiace se ve la siete persa in live perché ovviamente è stato molto bello anche leggere i vostri commenti qualcuno aveva già visto la serie infatti mi dicevano stai attento a questa frase in particolare me la segnavo quindi è stato molto utile anche il confronto insieme a voi quindi niente era per dirvi che in un momento così difficile così complicato lato Juventus qualche cosa positiva comunque c'è chiese una di queste e pian piano sono sicuro riusciremo a vedere anche quelle altre